Ciao Pinuscio, tu cosa ne pensi di Sepultura? A me i fratelli fanno impazzire. Grande band, veramente. E pensare che è una band che poi è arrivata dal Brasile. Grande dignità, grande band. Grandi Cavalera. E allora un ultimo messaggio lo scrive Giuseppe su Facebook. Ciao grande Pino, sono sempre io Giuseppe Danacoli che ti scrive. Volevo dirti che anche io sono senza lavoro da tempo, come tanti altri, e non so davvero cosa ci aspetta per il futuro. Ma, mi devi dire che ogni volta che ti ascolto e sento i tuoi pensieri e le cose che dici e le persone che mandi a fare in chiudo, mi dai tantissima gioia, mi fai correre da ridere e mi dai tanta forza per andare avanti. Ti giuro, è la verità sei tutti noi. Continua così Giuseppe. Poi bene, grazie. Grazie, siamo in tanti. Guarda che siamo in tanti che vogliamo un paese dove ci sia una vera giustizia, una vera meritocrazia, dove tutti i ladri e puttane. Ma non le puttane quelle che sono in strada, le puttane quelle che la danno via e non sanno fare un cazzo che sono a lavorare nelle televisioni e nei posti di comando. Hai capito? E ora ci guardiamo un video. Ci guardiamo una della più, secondo me la più grande band di rock n' roll mai esistita, ancora oggi vecchietti, spaccano il culo questi ancora. e guarda caso nel mio nuovo album c'è proprio un brano che è proprio un tributo che si chiama Angus Vey. È dedicato proprio ad Angus il brano e parla di lui, parla di gli SDS e della loro musica. Questi sono gli originali e si disse rifraff.